La difficoltà di trovare per ogni sessione di vaccinazione 5 persone, il principale problema della campagna in corso nelle farmacie, è la valutazione di Federpharma Pistoia a circa un mese dall'avvio. Il limite è imposto dal siero disponibile, quello di Johnson & Johnson, somministrabile a persone tra i 60 e i 79 anni, fascia di età dove più avanti la campagna in Toscana. Oltre il 70% delle persone infatti ha già ricevuto la seconda dose. Questo ha fatto sì che le farmacie non avessero un grosso numero di persone da vaccinare e ha anche un pochino messo in difficoltà perché le sedute vaccinali devono essere composte da almeno 5 persone perché se no le dosi di vaccino vanno sprecate. Oltretutto essendo una cosa nuova che le farmacie hanno iniziato per l'emergenza Covid ci comporta anche delle difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione di questa iniziativa e questa adesione alla campagna vaccinale. Nonostante questo però nella nostra provincia oltre 30 farmacie private hanno partecipato a questa iniziativa, hanno già iniziato a fare vaccini e hanno avuto anche un buon riscontro facendo diverse sedute vaccinali. Per il proseguo della campagna fondamentale sarà ora la prossima fase per la quale la regione ha annunciato la possibilità di forniture di vaccino Pfizer alle farmacie vaccino che può essere dato anche alla popolazione più giovane. Noi abbiamo insistito con la regione e abbiamo chiesto un appuntamento all'assessore Bezzini che dovrebbe avere nei prossimi giorni proprio perché per proseguire in maniera ancora più importante, ancora più massiccia e quindi anche con un maggior numero di farmacie che partecipano a questa campagna vaccinale è necessario che ci venga dato il vaccino Pfizer in modo da avere più dosi di vaccino e soprattutto da poter estendere maggiormente il target vaccinale anche a fasce di popolazione più giovani.